Eccoci qua, buonasera. Il telegiornale parte da quello che tutti attendono, perché il Consiglio dei Ministri è ancora in corso, è il Consiglio dei Ministri che deve decidere sulle modifiche, come si sa, al DPCM che riguardano i giorni delle feste. Ne abbiamo parlato praticamente da 3-4 giorni a questa parte, è evidentemente ciò che milioni e milioni di italiani attendono per sapere cosa disciplinerà i giorni delle festività, da Natale a Capodanno all'Epifania. La bozza che è entrata in Consiglio dei Ministri praticamente crea una zona rossa, in Italia tutta zona rossa, secondo le tre suddivisioni di uno degli ultimi DPCM, quello giallo, arancione e rosso, una zona rossa in Italia da vigilia di Natale fino all'Epifania. In tutti i giorni praticamente meno 4, 28, 29 e 30 dicembre e 4 gennaio. Sono gli unici giorni che non sono festivi o prefestivi, ma questo significa, almeno nella bozza che è entrata in Consiglio dei Ministri, che bar e ristoranti resteranno chiusi in tutto il periodo appunto dal 24 al 6 di gennaio. Ci saranno anche restrizioni forti nel trasferimento di persone verso le abitazioni private, al massimo due persone più minori e persone che non possono andare da sole per ovviamente disabilità o altro e coprifuoco ancora, come già in vigore, dalle 5 alle 22. Vedremo però, perché poi si è detto come succede sempre in questi casi, appena finisce il Consiglio dei Ministri ci sarà conferenza stampa con la spiegazione delle misure da parte del Premier. Abbiamo verificato pochi secondi prima di andare in onda, in realtà il Consiglio dei Ministri è ancora in corso, non sappiamo quando sarà quindi la conferenza stampa che in qualche modo è già annunciata, ma in realtà a far pendere a quanto pare la bilancia a favore dei più rigoristi nel Governo, ci sono stati anche i dati di oggi, ancora una piccola crescita, ma adesso siamo al 10% dell'indice di positività, il rapporto tra tamponi e positivi e un numero di vittime che purtroppo è simile a quello dei giorni scorsi, siamo sempre attorno a 680, come è successo ieri e l'altro ieri, questa è una preoccupante linea di continuità. Ma come vedremo, vedremo anche che ci sono tre regioni che sono, lo sapevamo, la Lombardia e il Veneto, ma la terza è il Lazio e che sono quelle più monitorate perché più a rischio. Poi però ci sono gli altri fatti, perché è passato il nuovo decreto sicurezza, quello che cancella i due decreti Salvini in via definitiva al Senato, ieri vi abbiamo mostrato le immagini della bagarre che si è ripetuta oggi in un clima di forte tensione. Poi vedremo anche però che c'è il ritorno che è in corso dei pescatori verso Mazzara del Vallo, in realtà arriveranno soltanto dopo domani mattina, ma ci sono aspre polemiche alimentate dalla stampa araba internazionale. Un tantam che parla di scambio tra la liberazione dei nostri pescatori e alcuni scafisti in attesa di giudizio nelle carceri italiane, il che sarebbe ovviamente intollerabile, ma che non trova nessun riscontro, dobbiamo dirlo con chiarezza. Però c'è anche la pronuncia dell'Europarlamento che chiede all'Egitto verità sul caso Regeni, compreso ovviamente l'identificazione dei cinque rinviati a giudizio, saranno rinviati a giudizio in Italia e anche la libertà per Zacchi e chi ancora è detenuto in attesa di giudizio. E poi c'è un caso che può essere clamoroso, la BCE contro il governo italiano sul cashback, ci dovevate avvertire e così non va bene. 30 secondi i titoli. Consiglio dei Ministri tuttora riunito per varare l'attesissimo decreto con le misure per le festività natalizie. Si va verso una chiusura totale. L'Italia sarà zona rossa nei giorni prefestivi e festivi, dal 24 dicembre fino al 6 gennaio. Ci saranno soltanto quattro giorni in cui non ci sarà il rosso assoluto, ma comunque l'arancione con chiusura quindi degli esercizi. 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio. Dieci giorni di lockdown totale dunque, quattro con chiusure parziali. Le nuove restrizioni riguardano anche gli spostamenti verso abitazioni private, che saranno consentiti solo una volta al giorno, tra le 5 del mattino e le 22, ovvero un periodo di non coprifuoco, all'interno della stessa regione, per non più di due persone, più eventuali minori e non autosufficienti. Tra poco, o perlomeno quando è finito il Consiglio dei Ministri, la conferenza stampa di Conte. Ancora una volta l'aula di Palazzo Madama si è trasformata in una curva da stadio. È successo oggi per la fase finale della discussione sulla riforma e il cambiamento del decreto sicurezza, quello che supera i ex DL Salvini, insulti, spinte, minacce, striscioni, fischietti, i senatori leghisti che inveiscono contro il ministro Dinkà quando questi annuncia la fiducia. Il vile atto di squadrismo attacca il PD. Ci hanno spostato in quattro carceri diverse, abbiamo subito pressioni ma mai violenze. È il primo racconto di uno dei 18 marittimi liberati dalla Libia dopo 108 giorni di detenzione perché accusati di aver sconfinato. Ma c'è chi insinua, ed è la stampa araba internazionale, che l'Italia avrebbe promesso la liberazione di quattro libici, attualmente in attesa di giudizio in Italia. L'Europarlamento prende posizione sul caso Regeni, vogliamo la verità sui quattro uomini che stanno per essere inviati a giudizio e si chiede anche di sapere quando sarà liberato Zacchi. Clamorosa critica della BCE verso il nostro governo sul cashback. Non è il modo di combattere l'evasione, disincentiva l'uso dei contatti in maniera squilibrante e soprattutto non ci avete avvertito come siete obbligati a fare. E' scritto nero su bianco in una lettera ufficiale della Banca Centrale Europea al nostro Ministro dell'Economia Gualtieri. Buonasera, quindi è in corso il Consiglio dei Ministri che attendiamo da molti giorni. E in effetti sono le 8 di sera del 18 di dicembre e vorremmo sapere se il 24 dicembre, tra sei giorni, ci sveglieremo potendo uscire verso negozi o andare poi al ristorante o andare a scambiarci gli auguri di Natale e fino a quando. Ancora non lo sappiamo, non è una constatazione polemica, è una constatazione e basta. E comunque il Consiglio dei Ministri è in corso e il fatto che sia in corso ci fa dire che la bozza che è entrata nella riunione del Governo potrebbe essere ancora cambiata in qualcosa visto che se no il Consiglio dei Ministri sarebbe durato pochi minuti. E allora vediamo insieme intanto, brevissimamente, che cosa c'è nella bozza. Se la bozza di decreto sarà confermata dopo la riunione del Governo, alcune misure sono destinate a cambiare i nostri giorni di fine anno e inizio 2021 infatti nei giorni festivi e prefestivi del periodo tra il 24 dicembre e il 6 gennaio l'Italia sarà tutta zona rossa, negli altri giorni feriali invece sarà zona arancione. Per un totale di 10 giorni di lockdown e 4 di chiusure solo parziali durante le giornate di zona rossa lo spostamento verso le abitazioni private è consentito una sola volta al giorno, in un arco temporale compreso tra le ore 5 e le ore 22 e verso una sola abitazione ubicata nella medesima regione, nei limiti di due persone che si potranno aggiungere a quelle già conviventi, ai minori di anni 14 e alle persone disabili o non autosufficienti conviventi. Nei quattro giorni feriali, 28, 29, 30 dicembre e 4 gennaio, resteranno chiusi i bar e i ristoranti, mentre saranno aperti i negozi. Sarà vietata la circolazione fuori dal proprio comune, a meno che non si tratti di centri al di sotto dei 5.000 abitanti e ci si potrà spostare per un raggio massimo di 30 chilometri dalla propria abitazione. Per ciò che riguarda il coprifuoco, dopo un lungo tira in molla nella bozza di decreto e entrata in Consiglio non si prevedeva un cambiamento rispetto a quanto già deciso nel DPCM in vigore dal 4 dicembre e quindi resta il limite fissato tra le ore 5 e le 22 di ogni giornata. Secondo l'Agenzia Ansa il Consiglio dei Ministri è finito, è stato varato il progetto. Adesso vediamo se e quando ci sarà, se in realtà lo sappiamo già, quando ci sarà, se sarà nel corso dell'arco del nostro telegiornale, la conferenza stampa di Conte, ovviamente ve la proporremo. Se sarà nella mezz'ora successiva, ovviamente sarà Lily Gruber a proporvela, se no, se mai nel caso torneremo subito dopo. Vediamo comunque, la trasmetteremo, non importa poi in quale cornice. Ma intanto, si è arrivati quindi al gran finale, si è arrivato al Consiglio dei Ministri dopo, come sapete, un tire molla, un dibattito anche aspro. Un lunghissimo travaglio di giorni, pieni anche di messaggi contraddittori e confusi, e oggi ancora ore e ore di riunioni per approdare il pacchetto di misure di questo primo e si spera unico Natale sotto il segno del Covid. Posizioni diverse nel governo, nella maggioranza, ma anche nell'opposizione, tra governatori di centro-destra e con i dirigenti nazionali. Rigoristi e fautori di norme più blande si sono confrontati in tutte le sedi. Da inizio settimana l'allarme era cresciuto con i numeri della pandemia e con le immagini preoccupanti dello scorso weekend di shopping, pranzi e aperitivi dominati dagli assembramenti, nel territorio in gran parte tinto di giallo della penisola. Il CTS, il comitato tecnico-scientifico che da nove mesi gestisce l'emergenza Covid, ha dato già da giorni l'indicazione della necessità di stringere, ma i meccanismi della decisione politica sono stati più complessi. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, diceva che il Paese aveva affrontato bene la seconda ondata e che servivano soltanto ritocchini e aggiustamenti al puzzle dell'Italia Colori, mentre già due giorni fa i ministri Speranza e Boccia, la rigorista, proponevano la zona rossa alle regioni, ottenendo il sì convinto di Veneto e Friuli, governate dalla Lega, con i numeri dei contagi in salita. Contrario il Ligure e Totti, mentre nel frattempo il centrodestra in Parlamento parlava ancora di stato di polizia, di libertà violata e di crudeltà del governo verso famiglie e bambini. E con Italia Viva sulla linea per turista, anche il PD area Marcucci chiedeva di allentare, per esempio, il divieto di spostamenti al di fuori dei piccoli comuni. Ma intanto è andato avanti ed è alla fine prevalso, con qualche ammorbidimento del lockdown, il ragionamento di chi vedeva un rischio insostenibile nelle vacanze senza limiti. Meglio chiudere ora che sono ferme scuole e fabbriche. Le regioni rosse hanno invertito il trend del contagio, a differenza di quelle gialle. Una terza ondata a gennaio, con l'influenza al picco e il piano vaccini da attuare, sarebbe disastrosa. Oggi il confronto è ripreso con l'incontro del Presidente del Consiglio con i capi delegazione di maggioranza e poi ancora regioni, province e comuni. Mentre il Presidente Veneto Zaia aveva già anticipato un quasi lockdown a partire da domani e nel Lazio della curva Covid in lieve risalita, anche Zingaretti annunciava che avrebbe agito per conto suo se il Governo non si decideva a intervenire. Poi il Consiglio dei Ministri finalmente per decidere. Il Consiglio dei Ministri si diceva è finito e possiamo anche capire che ha vinto l'ala rigorista perché subito ci ha messo il cappello, come si dice in questi casi, il capo delegazione del PD, una delle figure chiave dal fronte rigorista. Bene le nuove regole restrittive approvate dal Consiglio dei Ministri, misure indispensabili per contenere i contagi e prevenire una terza ondata. Saranno un Natale e un Capodanno diversi per tutti, ma il sacrificio va fatto perché servirà a evitare sofferenze e salvare vite. Così il tweet di Franceschini che ha voluto anticipare anche la conferenza stampa di Conte e da capo delegazione del PD ha voluto far sapere, come è legittimo peraltro, che ha prevalso la linea delle misure più restrittive possibili. Adesso vedremo se è cambiato qualcosa e che cosa. Ma abbiamo visto che il Consiglio dei Ministri si è riunito in una giornata che ancora è stata tambureggiata da una serie di numeri. Numeri ancora una volta non confortanti perché noi seguiamo l'indicatore di Utrend che da più di una settimana sta tra l'indice di gravità 75 e 76 e non si è mai mosso. E questo è il problema. La curva non scende, anzi siamo tornati a un indice di positività a due cifre, 10, e soprattutto i decessi sono da ormai tre giorni sempre attorno alla stessa cifra di 680. Per la prima volta dopo settimane c'è un dato in controtendenza, in aumento, che preoccupa moltissimo gli scienziati. Nell'ultimo monitoraggio settimanale l'RT, l'indice di trasmissibilità del virus in Italia, è tornato a crescere. È passato dallo 0,82 allo 0,86, pochi decimi, che per gli esperti hanno un chiaro significato. Tutti sappiamo che l'RT è il primo indicatore a muoversi. Poi viene seguito dal numero di nuovi casi, poi viene seguito dai ricoveri, infine dai ricoveri in terapia intensiva e infine viene seguito anche dai decessi. E quindi un movimento di RT in ricrescita, anche se minima, è un elemento di grave preoccupazione. Perché vuol dire che la trasmissione dell'infezione sta riprendendo quota. L'RT si muove molto rapidamente, spiegano nella conferenza stampa dell'Istituto Superiore di Sanità. Questo significa che il virus potrebbe riprendere quota in tempi strettissimi. Per questo, dice il Presidente Silvio Brusaferro, bisogna adottare tempestivamente misure restrittive. Anche perché in alcune regioni è già sopra l'1%. D'altra parte anche i dati di oggi dimostrano che la curva non si sta affatto piegando. Le vittime del Covid sono ancora moltissime, 674, solo 9 meno di ieri. Il numero dei nuovi positivi si discosta ben poco da quello di ieri. Sono ancora quasi 18.000. A rafforzare le preoccupazioni degli scienziati arriva anche un nuovo aumento dell'indice di positività, oggi al 10%. E non basta la lieve diminuzione dei ricoveri in terapia intensiva e nei reparti ordinarie a rassicurare. È una decrescita troppo lenta, affermano. Anche perché ci sono altri elementi di allerta. Dal rapporto risulta infatti che ci sono tre regioni ad alto rischio. Sono il Veneto, la Liguria e il Lazio. Veneto, che anche oggi segna il record di nuovi contagi più di 4.200, seguito da Lombardia ed Emilia Romagna. Qualsiasi aumento di mobilità e interazione tipica delle festività, spiegano nel rapporto, comporterebbe un conseguente e rapido aumento dei casi a livelli potenzialmente superiori rispetto a novembre. Il rischio, insomma, è che la terza ondata sia ancora più impetuosa e inizi quando la seconda non è ancora finita. Un altro elemento che esce dal Consiglio dei Ministri va verificato, ma quanto pare sono stati stanziati 400 milioni di ristoro immediato per bar e ristoranti, che scoprono dalle anticipazioni, adesso probabilmente anche dal nuovo decreto, che dovranno restare chiusi da vigilia fino all'epifania. Una mazzata evidente per il settore. 400 milioni è la cifra che sarebbe nello stesso decreto, il decreto di cui aspettiamo di sapere. Ma vedo in questo momento che c'è anche Conte che, twitta a sua volta, si è appena concluso il Consiglio dei Ministri. Tra poco conferenza stampa in diretta da Palazzo Chigi. Vi facciamo già vedere il segnale che arriva dal palazzo della Presidenza del Consiglio, il segnale di identificazione. Ma andiamo intanto a vedere cosa è successo al Senato, dove elegge il nuovo decreto sicurezza che cancella di fatto i decreti Salvini. Come ieri, peggio di ieri, in aula al Senato oggi è successo davvero di tutto, tra insulti, spinte, minacce, provocazioni testa contro testa, striscioni esposti, fischietti usati in aula come allo stadio. Questo è il primo giro di caos in mattinata. I senatori della Lega rioccupano i banchi del governo contro la decisione di porre la fiducia al nuovo decreto sicurezza che riforma quello Salvini. Tra questi c'è Stefano Lucidi, le urla venduto venduto dei suoi ex colleghi 5 Stelle sono rivolti contro di lui. Ma la giornata è solo all'inizio, ogni pretesto è buono per scatenare il putiferio con la Lega schierata in prima linea per provare a rallentare in ogni modo l'approvazione del provvedimento. Il dibattito, le accuse rilanciate in aula da Salvini e la maggioranza di fare il gioco degli scafisti, la risposta del PD che attacca la Lega di aver creato un esercito di clandestini passano in secondo, terzo piano. In questo video pubblicato sul suo profilo Facebook, Renzi riprende il momento in cui i leghisti espongono uno striscione contro i 5 Stelle accusati di incoerenza. Secondo i reso conti d'aula in questo tentativo di riportare l'ordine, il senatore questore De Poli avrebbe avuto la peggio finito. In infermeria, insieme ad un commesso, non è finita la gazzarra. I leghisti tornano all'attacco, srotolando un altro striscione dalle tribune. Siete senza vergogna, c'è scritto, è rivolto ancora agli ex alleati 5 Stelle. Il sottofondo di Fischietti è assordante. La seduta, ingovernabile o quasi più che in tempi normali, viene sospesa a ripetizione. Riprende alle 18 quando parte la votazione nominale chiusa meno di un'ora fa. Con 153 voti a favore, due contrari e quattro astenuti, il provvedimento, già approvato in prima lettura alla Camera il 9 dicembre scorso, viene convertito in legge. Il centrodestra non partecipa al voto. Su quello che è successo in aula, la Presidente del Senato, Casellati, aprirà un'istruttoria. La vicenda dei nostri pescatori liberati ieri dopo la visita a Lampo di Conte e Di Maio a Bengasi. Molte polemiche, la felicità per la loro liberazione, ma anche veleno che arriva dalla stampa internazionale di lingua araba. È stato uno scambio? I due pescherecci Antartide e Medinea sono in navigazione verso la Sicilia, scortati da una fregata della Marina Militare. A bordo i 18 marittimi di Mazzara del Vallo, che dopo più di tre mesi, 108 giorni di sequestro nelle carceri della Cirenaica, contano le ore che mancano a ritorno a casa. L'arrivo nel porto di Mazzara, dove già campeggia uno striscione ben tornati, è previsto per domenica. Appena possibile verranno ascoltati dagli investigatori la Procura di Roma. Ha aperto un fascicolo su questa brutta storia, risolta solo ieri dopo la missione a Bengasi del Presidente del Consiglio Conte e del Ministro degli Esteri Di Maio. Abbiamo cambiato quattro carceri in condizioni sempre più difficili. L'ultimo era al buio. Siamo rimasti sempre con gli stessi vestiti, ha raccontato il capitano della Medinea nel primo contatto radio con il suo armatore. Abbiamo subito pressioni, ma mai violenze. I due pescherecci hanno lasciato gli ormeggi del porto di Bengasi ieri sera. Le imbarcazioni erano state sequestrate insieme ai marittimi, otto tunisini, sei italiani, due indonesiani e due senegalesi, ma tutti della marineria di Mazzara, il primo settembre scorso dalle milizie del generale Haftar, con l'accusa di aver sconfinato nelle acque libiche nella pesca ai gamberoni. Più di tre mesi di braccio di ferro diplomatico finito ieri. Il giornale Panarabo, Asharka al-Ausat, vicino alle posizioni di Haftar, oggi in sino a un retroscena, il rilascio dei pescatori sarebbe rientrato in uno scambio di prigionieri. Un accordo per l'estradizione di quattro libici detenuti in Italia dal 2015 per il naufragio di un'imbarcazione in cui morirono 40 migranti, ma il legale di uno degli scafisti smentisce. È impossibile. Allora, vi facciamo ancora vedere. Siamo in attesa della conferenza stampa del Presidente del Consiglio, che dovrebbe essere a minuti, ma ci è già capitato di dire a minuti, e poi non era così come ci è capitato di non attendere la derivata all'improvviso. Comunque è stata preannunciata, come avete visto, da un tweet. Faccio ancora in tempo a dirvi, adesso andremo, navighiamo a vista con le cose, visto che abbiamo visto i pescatori, navighiamo a vista anche noi, perché a questo punto aspettiamo di essere interrotti dalle immagini in diretta da Palazzo Chigi. Vi devo dire che il Parlamento europeo ha approvato una risoluzione in cui si chiede un'indagine indipendente e trasparente su tutte le violazioni dei diritti umani in Egitto, per assicurare che i responsabili siano chiamati a risponderne. È evidente il riferimento sia al caso dell'uccisione di Giulio Regeni, con la richiesta evidentemente che venga dato alle quattro persone che sono state identificate dalla Procura di Roma come responsabili del sequestro e una anche dell'omicidio, sia data comunicazione della conclusione indagine, così da poter celebrare il processo. Ma anche si vuole sapere la situazione, le condizioni di Patrick Zaki e si chiede la sua liberazione, chiedendo anche all'Unione europea da parte dell'Europarlamento di intervenire per esortare le autorità egiziane a collaborare e a fornire gli indirizzi di residenza dei quattro agenti di Regeni. Il Parlamento di Strasburgo ha inoltre espresso sostegno politico e umano alla famiglia Regeni nella ricerca della verità. Vedremo se questo passo, che è formalmente importante, sortirà anche dei risultati. Non so se facciamo in tempo e non so tra quanti secondi c'è il servizio sul cashback, ma vi spiego di cosa vi vorremmo parlare. Perché questa sera si è saputo che la Banca Centrale Europea ha inviato una lettera al nostro Ministero dell'Economia in qualche modo rimproverando il governo italiano per la norma del cashback, per l'operazione cashback che tutti conoscete. Perché non è stata preavvertita la stessa Banca Centrale Europea come sarebbe dalle intese, dalle normative e perché, questo è l'altro aspetto della questione, secondo la Banca Centrale Europea, secondo Francoforte, questo provvedimento squilibrerebbe il rapporto tra contante e carte. Vediamo. La lettera piuttosto irritata del Comitato Esecutivo della Banca Centrale Europea è arrivata quattro giorni fa, direttamente al Ministro dell'Economia Gualtieri e per conoscenza al Governatore della Banca d'Italia Visco. Tema l'argomento di cui tutti gli italiani parlano in questi giorni di spese natalizie, insomma il cashback. Il meccanismo di restituzione del 10% fino a un massimo di 150 euro sulle spese effettuate con carte di credito, bancomat e applicazioni telefoniche, tramite l'app istituzionale Io. Ebbene, mentre il Governo e il Ministero competente da settimane chiedono in tutti i modi ai cittadini di aderire all'iniziativa puntata a combattere l'evasione fiscale e i pagamenti in nero, dalla lettera firmata da Yves Mersch, membro esecutivo della BC, e veniamo a sapere che a Francoforte hanno più di un dubbio sulla questione. Intanto, scrive Mersch, occorre dimostrare che le limitazioni del corso legale delle banconote siano realmente efficaci. Insomma, ci vuole una prova chiara che il cashback serva a combattere l'evasione fiscale, ma anche nel metodo la cosa non convincerebbe il previsto rimborso speciale di 1.500 euro. Infatti, secondo la Banca Centrale, sembra essere pensato per incentivare l'uso di pagamenti elettronici per importi limitati, proprio quelli che potrebbero essere pagati in moneta nei circuiti consueti senza rischiare il cosiddetto nero. In tal modo, però, rischia di essere danneggiata la circolazione della moneta, mentre la possibilità di pagare in contanti, sottolinea la BCE, resta importante per alcuni gruppi sociali che per varie legittime ragioni la preferiscono ai pagamenti elettronici. Parte poi una sorta di elogio del denaro liquido e rapido, ampiamente accettato, e consente di regolare subito le transazioni, ma i rilievi in conclusione della missiva sono anche di natura giuridica, perché Francoforte, citando gli articoli in materia del Trattato sul funzionamento dell'Unione Europea, ricorda al Ministro Gualtieri che tutte le autorità nazionali sono tenute a consultare la BCE su progetti che rientrino nelle sue competenze, comprese quelle relativi ai mezzi di pagamento. Apprezzeremmo che le autorità italiane adempissero in futuro l'obbligo di consultarci. Stop. Gelido il commento del Ministero delle Finanze, la lettera sul cashback dell'ex membro del comitato esecutivo della BCE, Yves Mersch, non desta né preoccupazione né ripensamenti. Le argomentazioni hanno un carattere puramente formale e non sono vincolanti. La cosa comunque rischia di suscitare un vespaio di polemiche, ma la Bruxelles oggi è arrivata però anche una buona notizia. Grazie alle richieste del Parlamento europeo, l'anticipo delle risorse del Recovery Fund che si possono chiedere prima che i piani di rilancio siano approvati sale dal 10% al 13%, che per l'Italia vuol dire 6 miliardi in più, da 20 a 26 in arrivo a primavera. Ottimo accordo, ha commentato, soddisfatto stavolta, lo stesso Roberto Gualtieri. Allora, il Consiglio dei Ministri, oltre a ciò di cui attendiamo conto direttamente dal Presidente del Consiglio nella conferenza stampa indiretta, ha approvato in via definitiva anche il decreto con i nuovi collegi elettorali per la Camera e il Senato. Questo era l'ultimo adempimento post-legge, come sapete diventata ferrea a questo punto dopo il referendum sul taglio dei parlamentari. I nuovi collegi permettono, la fissazione dei nuovi collegi permetterà di andare a votare quando sarà necessario e comunque già dai prossimi mesi. Prima non sarebbe stato possibile senza questo adempimento. Poi però vi devo parlare anche di una lettera che è stata inviata dai sei governatori di regioni del Sud al Presidente del Consiglio sul tema proprio del Recovery Fund. Che cosa dicono i sei governatori a Conte? Sostanzialmente, ve lo dico attraverso quel che scrive l'agenzia ANSA, anzi, usiamo l'AGI, viva preoccupazione per lo Stato del confronto sulla effettiva utilizzazione delle risorse dei fondi europei. La esprimono in una lettera a Conte i sei presidenti regioni del Sud che hanno partecipato a una riunione in teleconferenza. Sono De Luca della Campania, Bardi della Basilicata, Emiliano della Puglia, Marsilio dell'Abruzzo, Musumeci della Sicilia e Toma del Molise. Non hanno potuto partecipare al confronto Solinas della Sardegna e Spirli della Calabria. La bozza di programma circolata nei giorni scorsi sul Recovery Fund prevederebbe una ripartizione delle risorse in ambito nazionale sulla base di un mero criterio demografico tra centro, nord e mezzogiorno. Inoltre la medesima bozza prevede una ripartizione per sei missioni in assenza di un preventivo confronto con le regioni e con evidenti sottostime delle risorse necessarie in settori vitali in particolare nel mezzogiorno quali ad esempio la sanità, il turismo, i servizi idrici. Sono le 20 e 28. Attendiamo la conferenza stampa del Presidente del Consiglio sulle nuove misure. Noi proviamo ad andare in pubblicità a questo punto? Proviamoci. Ovviamente interromperemo se nel frattempo comparirà improvvisamente l'immagine del Premier. E allora vi faccio vedere no, non ve lo faccio vedere perché adesso ce la voglio vi faccio vedere l'identificazione di Palazzo Chigi per mostrarvi come il Presidente del Consiglio ancora non appaia dietro non è che è una tenda questo questo ovviamente è un tappo come si dice nel gergo televisivo poi quando inizia il collegamento si vedrà la consueta sala di Palazzo Chigi e a questo punto lasciamo ovviamente ben volentieri a Lilli Gruber per l'incombenza di questa diretta a me spetta solo di dirvi che a Milano come avete forse già intravisto la borsa ha chiuso in negativo con un meno 0,16% e in negativo è pure Wall Street Dow Jones meno 0,73% Nasdaq meno 0,28% è tutto, linea Lilli ci vediamo domani sera buonasera Buonasera Buonasera